Aspetta non lo vedo. Lo vedi? Si dai vai. Gira e quando hai fatto vai in quota, vai in quota. Non sopra lì eh. No vado più in alto. Pi in alto, più in alto, più in alto. Ma fai dove l'hai fatto prima. Tiri indietro. Ma lo faccio qua vicino? No da là parti, giri. Guarda che ti stai confondendo, non devo tirare indietro. Dai vai. No non lo faccio adesso. Eh allora dimmelo quando fai. Di qua adesso. Eh di qua, non riesco. Lo faccio di qua eh. Quando mi giro. Aspetta che ti lasci sopra. Stai di qua sulla pista però. Vado eh. Aspetta dai vai. Bello. E basta. Hai solo preso sensibilità. No. E' solo basta adesso. Basta, basta. Basta che sono le ali. No solo perché adesso hai capito che... Oh ci sono riuscito. Non ci posso credere. Ma non è che quando facevo il looping era l'aria che me lo spostavo? No no. E' perché per sbaglio ero abituato con l'altro. Ma io non mi oso mai a fare accovazie. Ma no eh no. Anche perché... Adesso è bello volare così. Io voglio raggiungere il mio record. Cioè voglio tenerlo il più possibile. Infatti. Che il mio record è quello di non spaccare mai gli aerei. Infatti. Fai accovazie. Poi non è un acrobatico questo. E' bello cattivello. Beh. Guarda che l'accovazia è looping. Guarda con l'easy star. Non l'ho mai fatto così così bellissimo. E beh chiamo questo qua. Questo li fa bellissimo. Le fa bene. Le fa belle rotonde larghe. bello. Buon farlo adesso? Eh? Non puoi fai un passaggio basso a quota? Bene. E poi dopo basta per le riprese perché se no ci sfilmino. Non troppo basso. Non si so mai. Wow